L'Avezzano non presenterà domanda di ripescaggio. Nulla a che vedere con la penalizzazione inflitta dal Tribunale federale, la società del presidente Gianni Paris ha venduto circa 250 tessere socio-sostenitore, ben lontano dal traguardo delle oltre mille che avrebbero garantito al club la liquidità necessaria per tentare il salto di categoria con il pagamento del contributo a fondo perduto. Dunque il sogno di riportare l'Avezzano 3 Pro nell'anno del centenario, come raccontato dal video promozionale della campagna abbonamenti, dovrà passare per la vittoria del campionato di Serie D, anche se ora c'è questo fardello del meno 3 in classifica inflitto dal TFN per la vicenda del doppio accordo con l'ex tecnico Pino Tortora e la violazione della clausola compromissoria nell'ambito della stessa vicenda. Un fatto che può incidere in un campionato che lo scorso anno si è risolto sul filo del rasoio. Il presidente Paris ha annunciato ricorso alla Corte federale d'appello contro la penalizzazione e le altre sanzioni combinate dal TFN. Inibizione per un anno e 2.500 euro di ammenda per lo stesso Paris, 3.000 euro di ammenda per l'Avezzano Calcio. A San Nicolò si è consumato un doloroso divorzio. Dopo 13 anni Alfredo Natali non farà parte dello staff dirigenziale san nicolese, anni nei quali si è alternato tra i ruoli di direttore generale e direttore sportivo. Lunedì prossimo sarà giornata importante a Vasto e Giulianova. In casa Biancorossa il patron Bolami ha in servo un colpo importante per il centrocampo e conta su una campagna abbonamenti di rilievo per spingere la squadra ad un campionato ambizioso. In casa Giulianova, proprio lunedì mattina, sarà presentato il nuovo organigramma tecnico con in capo il DS Nicolad Ottavio e l'allenatore Nico Stallone che in una intervista rilasciata a Piceno Time si è concedato dopo il quinquennio al Monticelli e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a Giulianova. Chi è nato, soprattutto le nostre generazioni ad Ascoli, è nato a pane e pallone, come si vuol dire. Ecco, in questo ho trovato qualcosa di simile a Giulianova. Giulianova è un'altra di quelle piazze dove si mangia pane e pallone. È una realtà molto simile sotto il profilo dell'entusiasmo, della passione e io mi ci sono ritrovato. Forse è stata una di quelle molle. Avevo bisogno, dopo un'esperienza come quella di Monticelli, non potevo andare in una fquara qualsiasi. Avevo bisogno di una fquara dove ci fosse molto passione, molto calore. In questo credo che Giulianova rappresenta una unicità e una differenza rispetto alle altre piazze della Serie D.